Si inizia a vedere qualche movimento di troppo nelle grandi città, Milano, Torino, Roma. Sarà la Pasqua, sarà Pasquetta, sarà il weekend, il caldo, però sembra che il lockdown si sia un po' allentato. Questo è in un periodo in cui c'è una stabilizzazione dei nuovi casi. Quali sono i rischi? Quindi rischiamo di buttare via 5 settimane di sacrifici già fatti e ne dovremo fare alcune, almeno 2-3, se è vero quello che il Presidente del Consiglio ha detto ieri sera. Allora cerchiamo di farle sfruttare al massimo. Non ci libereremo a quota zero del virus il 3 di maggio, però avremo magari un abbassamento tale dei contagi che potremo programmare una serie di riprese di attività, ricominciare a generare reddito, a generare commercio, eccetera, in una maniera controllata. Speriamo che tutti noi dobbiamo capire che il rientro sarà un privilegio e dobbiamo gestirlo, tutelarlo, perché altrimenti lo perdiamo immediatamente. Perché questa infezione si trasmette con una facilità incredibile. Cioè, se possiamo stimare in questo momento, andando un po' oltre quello che siamo stati capaci di misurare, che forse abbiamo 3 milioni o 2 milioni e mezzo di italiani oggi infettati, vuol dire che ne abbiamo un 57 milioni che non lo sono. Fra questi 57 milioni abbiamo protetto delle persone che forse, nel caso avessero contratto l'infezione, sarebbero magari decedute. Allora, abbiamo ottenuto un risultato, ce lo hanno anche riconosciuto. Non buttiamolo via adesso. Per il ritorno alla normalità, quella che viene definita la fase 2, molti sindaci stanno spingendo sul governo per avere i test anticorpali. Sì, ma ci si arriva presto. Guardi, perché sì, ora c'è stato un primo pronunciamento degli organi, chiamiamoli federali, lo dico in senso sportivo, dell'Istituto Superiore Sanitario, ancora non sono attendibili, eccetera. Sì, vabbè, non saranno ancora attendibili. Ci sono almeno 20 kit in arrivo, diversi, perché ogni crisi è l'opportunità per qualcuno. E questa è sicuramente un'opportunità per chi lavora in diagnostica. Sta preparando dei kit fantastici. Aldirittura doseremo non solo gli anticorpi, ma anche quelli neutralizzanti, cioè quelli che ci servono. E qui sarà non solo una diagnosi, ma sarà anche una diagnosi forse di protezione. Quindi non solo di avvenuta infezione, ma potremmo anche dire che il soggetto è protetto. Per cui, se oggi ancora non abbiamo tutti gli strumenti che vorremmo, guardi, fra poco ci sono. E ci sono, e vanno sul mercato, sono già acquistabili di vario livello, di varia foggia. Secondo me non ci vorrà molto ad averli, per cui questo è un problema che supereremo presto. Fra poco cosa potrebbe voler dire? Ma guardi, alcune cose sono in sperimentazione a Pavia, dal professor Fausto Baldanti, che è un caro amico, e verranno resi, diciamo, commerciabili a metà maggio, ma disponibili già prima. Perché poi ci sono dei canali di approvvigionamento che i nostri laboratori già hanno storicamente, attraverso i quali poi riusciamo a disporne prima. Quindi potrebbe essere che i comuni facciano richieste già inizio maggio, potremmo dire. Sì, sì, sì. A Torino, le dico, in via sperimentale, il mio laboratorio di farmacologia ne ha almeno tre diversi, di cui due ottimi, fra l'altro, funzionano piuttosto bene, cioè sono molto coerenti, gente che ha avuto l'infezione agli anticorpi, gente che è rimasta protetta non ce li ha. Cioè, tutto sommato, ci sarà una sbavatura dell'1, l'1,5%, ma sono comunque strumenti validi. In questa fase ci aiutano molto.